Caro dottor Casalini, questo mio audio messaggio è per lei in risposta alle obiezioni che ha sollevato durante la trasmissione di Fede e Cultura, Francesco, soluzione finale. Naturalmente anche questa volta ci siamo dovuti far insultare dal caro visiting professor all'università di Scutari, professor Zenone, i barabba che sono protestanti perché escono fuori dalla chiesa. Allora a questo punto anche San Bernardo di Chiaravalle era un protestante ed era un barabba perché lui aveva disconosciuto l'antipapa Anacleto II, quindi non ho capito su quale base storica si possano fare affermazioni del genere. Allora lei si chiede in merito a questo disco rotto, perché il disco rotto? Perché sul canale del professor Zenone tante persone dicono ma la finite con sta storia? Basta, si è capito che non è il papa, perché non date retta a cionce? Allora questo disco rotto da che cosa deriva? È una fantasia, è una suggestione oppure ci sono delle basi per affermare una cosa del genere? Ecco, sentiamo che cosa si chiede il dottor Casalini. Il papa è il fedele esecutore della tradizione e della sacra scrittura. Il problema enorme oggi è questo. Io sono un fedele, sono un papalino, però bisogna interpretare bene cosa vuol dire la parola fedeltà. Perché se il papa, o meglio, se il papa non scrive ma approva i padrini trans, io non obbedisco se fossi un parroco. Io ricordo l'altro ieri che il cardinale Gerard Müller, non le febbre o minutella, ha scritto che alcune affermazioni del Santo Padre sono o rasentano, ma siccome è temo che abbia detto sono, l'eresia materiale, non quella formale, ma l'eresia materiale. E perciò a un certo punto uno deve dire che io certe cose non le seguo. La soluzione che io sono talvolta basito da leggere certi commenti sui video di fede e cultura è questo discorotto, come dicevi tu prima, di cento persone che continuano a dire senza poi particolari giustificazioni, Bergoglio non è papa, gli altri non sono cardinali, eccetera. Ma la risposta è, e poi se mai chiudiamo e chiudiamo con Strickland, per non andare fuori tema, che ormai è oltre mezz'ora che trattiamo di questo argomento. Ma la domanda è, qual è l'alternativa? Qual è la soluzione? Cosa proponete? Un nuovo conclave? E allora, io sono appena tre anni che sto cercando di invitare l'intelligenza cattoconservatrice a una riflessione normale, non a entrare nella cabbala, nel mondo delle profezie, No, sto cercando di far riflettere delle persone che io penso essere normo ragionanti su alcuni dati di fatto. Allora, le sembra normale che abbiamo avuto due papi, due vestiti di bianco, un papa che rimane a vivere in Vaticano, l'altro che governa? Le sembra plausibile? Il cardinale Müller che lei cita dice che poi le dimissioni di Benedetto hanno pure una sfumatura sbagliata perché il munus e il ministerium sono inscindibili. Lo stesso papa Francesco, che per lei è il suo santo padre, dice che le dimissioni di Benedetto sono state poco chiare. Allora, quello che io ho documentato in circa 700 articoli, 400 podcast e un volume di 340 pagine venduto in 18.000 copie, tradotto in cinque lingue e presentato per 70 volte dal settembre scorso, è qualcosa di molto semplice nel succo, anche se come è stato svolto è piuttosto complesso. Il succo qual è? Il papa Benedetto è stato costretto a togliersi di mezzo, ma non si è tolto di mezzo come pensavano i suoi nemici, si è fatto mettere in sede impedita, cioè si è sacrificato come Gesù Cristo, si è fatto mettere in croce, si è fatto mettere in prigione, e in questo modo ha reso antipapa qualsiasi papa che venisse eletto mentre lui era vivente, impedito e non abdicatario. Ecco, questa è la sintesi di tutto quanto, cioè ormai tutti concordano sul fatto che Benedetto XVI sia stato costretto a togliersi di mezzo, lo stesso Zenone parla della mafia di San Gallo, eccetera eccetera, io sono appena a tre anni che vi ripeto con una cadenza di due, tre, quattro articoli a settimana, più altrettanti podcast, vi sto ripetendo che cosa ha fatto il vicario di Gesù Cristo. Ora, nel momento in cui Bergoglio dà il battesimo ai transe, i bambini degli uterini, frutto degli uterini affitto, caccia il vescovo stricla, io penso che forse sarebbe giunto il momento di fare una riflessione un po' pagata. Con lei, eh, lascio perdere Zenone perché ormai mi ha preso in antipatia, quindi diciamo lui è un po' fuori dal dibattito, ma con lei che è una persona ragionevole e istruita, e mi auguro normo ragionante, allora vorrei farle, mi permetto di accennarle quattro brevissimi passaggi. Ecco, li vediamo insieme in questa slide, perché Bergoglio non è il Papa in quattro semplici passaggi. Adesso lasciamo perdere la sede impedita, il codice Ratzinger, Benedetto che dice sono il primo Papa a essersi dimesso dopo mille anni, lasciamo perdere tutte queste cose. Devo dire che a volte mi viene il rimorso di aver messo troppa carne al fuoco e quindi aver lasciato che qualcuno disperdesse un po' la sua attenzione. Allora, primo punto, Universi Dominici Gregis, articolo 77, stabilisco che le disposizioni concernenti di tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della Medesima debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della sede apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, quella che dovrebbe essere stata, quella di Benedetto, una rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del canone 332.2. Perfetto. Andiamo al canone 332.2. Si contingat ut Romanus Pontifex, muneri suor rinunziat. C'è la rinuncia al munus, l'essere Papa, il munus che è l'ufficio dato per disposizione divina, che deve essere applicato, deve essere esercitato con il ministerium, lo dice nella stessa Declaratio Papa Benedetto. Quindi, la vacanza della sede deve avvenire a norma del canone 332.2. Il canone 332.2 ci dice che il Papa deve rinunciare al munus, la Declaratio. Declaro me ministerio episcopi Rome, commisso di rinunziare. Allora qui lui dichiara di rinunciare al ministerium, cioè all'esercizio pratico del potere, non al munus, non all'investitura divina. E questo è fattuale. Il canone 332 dice muneri e la Declaratio dice ministerio. E questo è sotto gli occhi di tutti. D'accordo? Allora, articolo 76 dell'Universi Domenici Creggi, se l'elezione fosse avvenuta, altrimenti, da come è prescritto nella presente Costituzione, o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, e quali sono queste condizioni? Cioè che la rinuncia del pontefice debba avvenire a norma del 332.2. È avvenuta la rinuncia al munus? No, non è avvenuta. Allora, l'elezione è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito, ed essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Ecco, questo è la base del disco rotto. Questo è il perché tante persone tempestano il canale di Zenone di commenti esasperati. Basta, no? Fatela finita. Ancora parlare di... Bergoglio non è il Papa, ma non è che non è il Papa perché è eredi, perché ci sta antipatico, perché non porta lo stemma sulla fascia. Non è per quello che non è il Papa. Non è il Papa per un motivo canonico, cioè che Benedetto non ha lasciato la sede vacante a norma del canale 332.2 e quindi l'elezione di Bergoglio è stata nulla e invalida e lui non ha alcun diritto. Quindi lui di fatto è antipapa. Allora, l'antipapa non è qualcosa che viene dal pianeta Sirio per la prima volta. Ce ne sono stati 40 di antipapi nella storia della Chiesa. Antipapa è il Papa non canonicamente eletto, il Papa che non ha il munus e quindi non ha l'assistenza dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Detto ciò, lei fa benissimo ad essere fedele al Papa, a dimostrare la fedeltà assoluta e incondizionata al Papa, ma prima dovrebbe appurare il fatto se Bergoglio è o non è il Papa. Questo è. Bergoglio non è il Papa. È un antipapa quindi lei purtroppo sta prestando una fedeltà cieca e incondizionata a uno che non è il Papa. non lo è sulla base canonica, non perché è antipatico, perché fa i dispetti, perché ha rimosso Strickland, non è il Papa per una questione canonica. È uno messo lì da questi poteri forti, mondialisti, massonici che vogliono spacciare la Chiesa Cattolica e mi sembra che diciamo sulla sintomatologia possiate essere tutti d'accordo, no? Allora, visti gli effetti noi vi stiamo dicendo che la causa è questa ed è una causa canonica. Il Papa Benedetto non ha abdicato, si è fatto mettere in sede impedita per friggere qualsiasi pontefice che venisse eletto mentre lui era vivente e impedito. Perché non l'ha detto? Perché era in sede impedita. Perché non è sceso dalla croce? Perché appunto Gesù Cristo non ha fulminato con lo sguardo quelli che lo mettevano in croce forse Papa Benedetto pensava che noi avremmo capito eh ma vedo che quella frase evangelica sul fatto che i figli del mondo sono più scaltri dei figli della luce mi sembra che che qui si stia esagerando eh allora lei che è una persona colta ragionevole pacata cordiale intelligente la prego si guardi i tre documentari non ne dico di leggere il codice Ratzinger perché sarebbe troppo lungo si veda i tre documentari che le posto in descrizione e le sarà chiaro come Papa Benedetto non ha abdicato ma con un raffinatissimo congegno anti usurpazione ha reso Bergoglio antipapa fin dalla sua pseudo elezione il 13 marzo 2013 ora come se ne esce? ecco questa è una buona è una buona domanda se ne esce applicato all'universi dominici gregis l'elezione è nulla invalida quindi l'elezione di Bergoglio non è mai esistita quindi come se ne esce? con la petizione ha sentito che l'8 novembre abbiamo presentato una petizione che in 15 giorni 12-13 giorni ha raccolto 11.500 firme eh questa petizione non è qualcosa di tipo quelli che chiedono a Papa Francesco di rispondere ai dubbi è campacavallo questa petizione ha un valore legale di notifica di esposto visto che all'articolo 3 dell'Universi Dominici Gregis si dice che i cardinali hanno il dovere di intervenire per tutelare i diritti della sede apostolica ai cardinali va notificato attraverso un esposto che l'elezione di Bergoglio è nulla invalida questa è l'unica possibilità altrimenti se non ci sarà un movimento di opinione che possa supportare uno o due o tre fra quei 110 cardinali autentici si nomina pre-2013 la chiesa cattolica sarà finita e lei dovrà prestare una fedeltà sofferta e disperata a tutta una sequela di antipapi che rovesceranno la fede cattolica trasformandola nella religione del diavolo nell'agnosi come sta succedendo hanno rovesciato tutto hanno rovesciato il padre nostro hanno rovesciato il gloria hanno inserito la ruggiata dei rosa croce nella mesa e adesso stanno sdoganando l'omosessualità la sodomia eccetera eccetera quindi le chiedo di dedicare 25 minuti del suo prezioso tempo alla visione di questi tre documentari soprattutto dell'ultimo e le chiedo di aiutarmi a supportare la petizione il suo blog è molto seguito ci sono dei contenuti di alta qualità però se se non fate se non mettete a fuoco la questione chiave cioè il fatto che Bergoglio non sia caronicamente il legittimo Papa non se ne esce non se ne esce ripeto lasci stare il codice Ratzinger la sede impedita perché parlo di sede impedita perché la sede impedita è l'unico caso in cui il Papa perde il ministerium perde il potere di fare il Papa e rimane con l'essere Papa guarda caso Papa Benedetto è rimasto col nome pontificale vestito di bianco a vivere in Vaticano più Papa di lui più Papa impedito di lui credo che non ce ne siano altri di altri esempi è rimasto Papa a vivere nella sede impedito prigioniero e ci ha fatto capire con dei messaggi che non sono delle cose fantasiose i romanzi alla den Brown perché Benedetto XVI scrive in ultime conversazioni sono il primo Papa a dimettersi dopo mille anni allora 2013 meno 1415 l'anno dell'ultimo abdicatario non fa mille fa 5,98 e questa è matematica elementare non è una fantasia la den Brown che cosa ci sta dicendo Papa Benedetto che lui ha rinunciato al ministerium come aveva fatto il Papa medievale Benedetto VIII nel 1013 e neanche Benedetto VIII aveva pedicato ma lasci perdere rimaniamo all'Universi Dominici Greggis c'è stata questa vacanza della sede a norma del canone 332.2 no non c'è stata e allora l'elezione è nulla invalida quindi se voi volete fare qualcosa supportate la petizione sommergete di firme il Vaticano fate pressione sui cardinali veri autentici di nomina pre-2013 affinché dichiarino che il Papa è morto vero Papa mortus est e convochino il conclave Bergoglio protesta e chi se ne importa che protesta ci saranno delle guardie svizzere che lo accompagneranno alla porta perché perché i cardinali hanno il dovere e il potere di intervenire articolo 3 della Universi Dominici Greggis quindi se non sei Papa basta non hai alcun potere e quindi la sua ammirevole fedeltà al Papato io le suggerirei di indirizzarla nella difesa del vero Papato e non in una difesa a oltranza dell'antipapato quindi questo disco rotto delle persone che scrivono sul canale di Zenone non è che sono deficienti sono persone che hanno dedicato qualche minuto ad analizzare la questione caro dottore io sono a sua disposizione per un dibattito se lei vuole essere ospite del mio canale pormi delle domande anche con un approccio critico feroce anche io sono a sua disposizione per ospitarla per uno scambio e sarò lieto di fornirle tutte le risposte che lei vorrà domandare cari amici salutando il dottor Casalini vi ricordo i prossimi appuntamenti per codice Razzini anzi colgo l'occasione per invitare il dottor Casalini a una delle mie conferenze se gradisce sarà un ospite estremamente gradito se vorrà intervenire naturalmente avrà lo spazio che desidera ci incontreremo a Sassari il 18 il 19 a Cagliari il 22 a Castellaneta il 23 a Bisceglie il 25 a Civitanova Marche il 3 dicembre ad Asti come professor Corrias poi in Trentino Alto Adige ecco mi hanno segnalato di dire Alto Adige sì va bene d'accordo in Trentino Alto Adige a Rovereto l'8 dicembre a Merano il 9 il 10 a Tesero l'11 a Trento il 13 a Schio colgo l'occasione per invitare Mirko Agerde e Doron Kaia che sono di Schio se vogliono intervenire anche loro saranno graditi ospiti un caro saluto a tutti 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 a tutti